Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video, come vi anticipavo in quello delle libere e delle qualifiche sono fuori stiamo però iniziando a registrare di nuovo un po' tutto quanto, ci dobbiamo rimettere assolutamente in carreggiata perché quello che sta per succedere sta veramente stravolgendo il campionato quindi ci siamo finalmente per il video di gara 1, ci vediamo subito dopo la sigla e vi racconterò un po' in anteprima quello che è successo Ciao Bene, ci siamo, 25 vetture in griglia e io parto purtroppo soltanto undicesimo sarà dura da recuperare ma ce la dobbiamo assolutamente fare, siamo qui per questo e come ben saprete le rimonte mi piacciono un casino l'unico problema è che sono le 7 dalle 6 e un quarto che doveva iniziare la gara siamo partiti intorno alle 7 e ahimè le giornate si sono accorciate quindi purtroppo non ho fatto in tempo a cambiare la visiera e mettere quella trasparente prevedo già che sarà un gran casino speriamo soltanto che non succeda nulla di troppo grave e che riusciamo a finire la gara con il giorno perché secondo me può tirare per le lunghe 12 giri qui a Vallelunga sarà una gara abbastanza abbastanza lunga avrei preferito fare una partenza un po' più scattante ma va bene ormai è assodato che le partenze non mi riescono più quest'anno ce la teniamo e recupereremo oh prima curva maledetta porca miseria mi stavo per prendere uno spoiler in faccia ok un'altra posizione recuperata e adesso testa bassa e continuiamo a martellare e adesso testa bassa per prendere uno Vabbè, ormai si è capito che la safety car rovina tutto, anche se vabbè, d'altronde era inevitabile che uscesse la safety car con il primo incidente, con l'incidente in curva 1, anche perché, ahimè, la vettura era rimasta lì ferma in mezzo alla pista. Visto che il mio motore si caga sempre addosso, speriamo soltanto che nella ripartenza non mi mangino tutti quanti e non vanifichino il lavoro che io finora ho fatto, anche se è solo una misera posizione, però male non è. Avanti tutta, un'altra posizione recuperata, adesso dobbiamo solo continuare a risalire. Grazie a tutti. Ormai sorpasso all'esterno marchio di fabbrica. Ora, avanti un altro. Ormai sorpasso all'esterno marchio di fabbrica. Ci volevo stare Ma è meglio di no Meglio aspettare Va Ottimo Speriamo soltanto che ora Non mi divorino di nuovo Con il dritto Mio dio Motore maledetto Mio dio Mio dio Mio dio Mio dio Mio dio Mio dio A Mio dio Purtroppo quelli davanti li vedo molto molto lontani Anche se sostanzialmente siamo a metà gara circa Quindi potremmo potremmo riuscire ad arrivare sotto Se ovviamente non inizio a fare la battaglia con quelli dietro di me Porca bia Motore motore maledetto Ho bisogno di più motore 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 Proprio che con questa salti gare si andrà a finire molto molto al buio Peccato ragazzi perché avrei voluto vedere un altro po' di luce Visto che non si vede più un cazzo di già Beh forse sarebbe quasi il caso di dare la rossa e di far finire qui la gara Perché non si vede più nulla Bisogna tenere in conto che noi abbiamo la risiera scura ragazzi Questa è una piccola pecca della direzione di gara Questa è una piccola pecca della direzione di gara Bene questa gara è finita e diciamo che da come era partito il weekend è andata più che bene Anzi direi è andata egregiamente gara 1 Da come erano andate le qualifiche da come era andata l'ultima sessione di libera è andata egregiamente Purtroppo continuo a peccare molto con il motore Ma vabbè con il gioco delle scie forse dovrei riuscire a cavarmela poi per gara 2 Partendo davanti sarà sicuramente tutto più agevolato e tutto diverso Che dire ragazzi questo video finisce qui Ci vediamo a brevissimo con il video di gara 2 per poi proiettarci direttamente nel weekend di Maggione Che gare Maggione ragazzi che gare Che gare Maggione ragazzi